Fabrizio Baghera, una nuova stagione a inizio, con quale ambizione e quali motivazioni? Innanzitutto con l'ambizione e la motivazione di migliorarci, senza fare proclami come magari sono stati fatti l'anno scorso ma con la voglia di lavorare forte per creare un'identità è qualcosa di importante quest'anno e far rendere orgogliosi tutta la gente che si è abbonata che per noi è un motivo di grande orgoglio e anche ci dà un grande senso di responsabilità vogliamo far sì che la nostra gente sia orgogliosa di noi e per farlo, al di là dei risultati prima di tutto speriamo di creare una squadra e vogliamo creare una squadra che lotti tutte le partite e appunto rende orgogliosi la nostra gente, i nostri tifosi Quindi praticamente quest'anno rivedremo il Fabrizio Baghera della Virtus a Lanciano quando la Terranea vinceva 1-0 che con un tocco, se non mi sbaglio, da 30 metri c'era e arrivò il pareggio per i frentani Quindi è quella la stagione che si augura Baghera per sé e per la Tarnana? Certo, penso che tutti noi, soprattutto chi è rimasto l'anno scorso deve avere una grande voglia di far vedere sul campo i giocatori che siamo e non lo possiamo fare a chiacchiere, lo dobbiamo fare sul campo e abbiamo qualcosa da farci perdonare e abbiamo una grande voglia di riscattarci Poi non sarà un discorso personale, sarà un discorso che se la squadra riuscirà a esprimersi al meglio dopo tutti quanti ne trarremo beneficio e potremo giocare sui livelli che ci competono e a cui possiamo giocare È una squadra che si presenta estremamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione diversi giocatori, con alcuni di questi credo tu abbia anche giocato Sì, io conosco Swagger, Avellino era con me, Mammarella Ecco, la cosa principale è riuscire a creare una grande identità è un gruppo di ragazzi che crema dalla stessa parte con grande voglia di fare e dobbiamo ripartire da questo con poche chiacchiere e lavorando forte dal primo giorno e dopo far parlare il campo, ecco l'ho detto perché chiacchiere l'anno scorso ne abbiamo fatte tante però il giudice è solo uno, è il campo e quindi non vediamo l'ora di incominciare Ti sei chiesto in questo periodo che cosa è successo nel 2019 dal momento in cui sei arrivato a Terni cioè com'è possibile questa involuzione di punti e di risultati, se hai avuto modo? Ma sarebbe un'analisi lunga da fare non mi sembra il caso di farlo adesso non si può spiegare in due parole quindi penso che la stagione dell'anno scorso è ormai andata è il bello del calcio che sia ogni domenica si riparte da zero e anche ogni stagione riparte da zero adesso partiamo tutti da zero c'è un gruppo nuovo abbiamo la fortuna di avere un allenatore che già conosciamo che comunque in un momento difficile penso è riuscito a darci un'identità, a darci qualcosa l'anno scorso e quindi ci sono gli ingredienti per far bene poi come ho detto bisogna lavorare forte e far parlare il campo Senti, tra di voi avete tracciato per così dire un'ipotetica linea di partenza una specie di pit lane dell'automobilismo quindi credo che parlare dei play-off sia il minimo però ecco io mi riferisco ai play-off nei primi quattro posti perché poi dopo i play-off dal quinto al decimo sì vanno bene ma insomma sono più faticosi a disputarli ma io dico sicuramente tra vincere o non vincere il filo è molto sottile però l'obiettivo nostro deve essere sicuramente fare un campionato di vertice che quindi questo vuol dire arrivare quando sarà marzo nelle posizioni davanti poi arrivare comunque nelle prime cinque quello può essere un obiettivo poi è il campo che dirà fin dove possiamo arrivare ma adesso parlare di obiettivi di numeri secondo me è sbagliato dobbiamo pensare solo a creare un gruppo forte, un'identità forte di ritiro lavorando tanto e come ho detto la società con l'iniziativa del presidente ci ha messo a disposizione 11.000 persone allo stadio che è una cosa incredibile quindi dobbiamo essere bravi a essere all'altezza di questa responsabilità con grande gioia, grande voglia di rendere orgogliose queste persone che ci seguiranno Ecco parlai proprio di questi 11.000 spettatori speriamo appunto di mantenerli e saranno liberati diverso rispetto allo scorso anno Sì penso che molto dipenderà da noi perché gli abbonamenti ci sono poi penso che se la squadra partisse bene, andasse bene invoglierebbe la gente comunque a essere sempre presente quindi più di questo penso che la società non poteva fare il presidente quindi adesso veramente tocca a noi ma senza per questo sentire troppa pressione anzi, questo ce ne mette ancora più voglia di fare ecco, creare una squadra che la gente quando riesca dica cazzo, questi hanno lottato tutta la partita e questo è il primo obiettivo poi naturalmente dobbiamo riuscire a fare un campionato di vertice però le posizioni non è giusto dire adesso nel senso, vedremo, vedremo Gli spettatori ci sono credo che si possa sintetizzare con due parole la stagione prossima voglia di riscatto? Per forza, sì penso che sia per i ragazzi nuovi e per noi che magari stanno l'anno scorso dobbiamo tirare fuori anche un po' diciamo l'orgoglio personale perché non possiamo essere quelli l'anno scorso ma per farlo l'ho detto è solo il campo che lo dirà quindi per me le parole devono essere poche abbiamo solo tanta voglia di riniziare grazie ciao, grazie mille grazie a tutti grazie a tutti